Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio con la nostra Master League su PES 4 Signori, allora in premessa, io sto registrando in rapida successione al video che è uscito martedì quindi oggi è sabato, quindi io non so che reazione avete avuto al video di martedì ripeto, faremo di sicuro 4 episodi, quindi fino alla prossima, fino a sabato, la prossima settimana usciranno i video che escono il martedì e il sabato se le valutazioni saranno positive, perché poi io adesso mi fermo e poi nel fine settimana registrerò eventualmente gli altri due episodi e se le reazioni sono positive, signori, porteremo avanti questa serie se capisco che non vi può interessare, la metteremo da parte e ritorneremo alla normale programmazione con Minecraft detto questo, signori, prima di partire il video vi ringrazio comunque per i commenti, per i like e per il supporto che date a serie e a canale vi ricordo di iscrivervi perché ho sempre bisogno del vostro supporto ogni giorno che passa detto questo, signori, non perdiamo molto tempo e partiamo con il video di oggi allora, andiamo un attimino alla formazione vediamo un attimino, i ragazzi sono tutti belli carichi e pronti e io voglio semplicemente fare una situazione la formazione lui già me l'ha salvata così che cosa bella che mi salva direttamente la formazione senza la rottura di scatole allora, allora, c'è qualche giovane Mazzoni allora, Mazzoni dobbiamo far giocare i giovani, signori così vediamo di farli crescere Rossetti, Rossetti cosa sei? Un attaccante bravo, Rossetti tu entrerai a posto di Danielevicius che non mi ha convinto l'altra volta Colombo poi c'è qualche altro giovane, anche lui Deltongo Torotonte che barge che tu del tongo che barge che tu del tongo che cazzo la fai tu? l'MCA noi ci giochiamo con l'MCA sì fa uno di questi due fuori chi è il più vecchio? Vanilli ma Vanilli mio ah, un difensore centrale ok 28 e 27 va bene poi intanto testiamo così, signori e vediamo come la va detto questo procediamo con il nuovo incontro che sarà contro il Mainz ottimo, ottimo Mainz va bene, va bene noi utilizziamo la seconda maglietta perché siamo fuori casa ma tutto questo non ci fa paura, signori scendiamo subito in campo devo dire una cosa devo dire una cosa mi manca Babangita, signori mi manca Babangita che corre su quella fascia e fa il terrore però e non c'è in tutto questo su questo PES Babangita quindi sarà un problema trovare dei nuovi esterni che corrono come dei treni ma li troveremo li troveremo, signori li troveremo guardalo lì il Mainz il Mainz col pelatone tutti biondi sono ok siamo terzi, signori dobbiamo mantenere questi risultati positivi dobbiamo mantenere questi risultati positivi scendiamo in campo subito palla loro non abbiamo paura di nessuno siamo pronti a affrontare tutto e tutti tutto e tutti allora non mi devo confondere con le maglie Granata perché noi siamo in Livorno siamo abituati ad avere la maglia Granata e non dobbiamo confonderci dagli una spallata di quelle che se le ricorda fino a domani mattina domani mattina si sveglia e dice porca miseria ma cosa mi ha investito un treno ieri dagli una spallata giusta porca miseria Amelia Amelia per Balleri Balleri l'apre ancora per Doga Doga che non sa stoppare un pallone bravo Doga bravo stai in prima squadra ok bravo c'è la mità c'è la mità c'è la mità siamo quelli bianchi c'è la mità anch'io c'ho qualche problema di riconoscimento però siamo passoni 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 attenzione no mannaggia 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 bravissimo Vidigal bravissimo Vidigal che fa il buono e il cattivo tempo passoni 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 per Protti che la stoppa Protti cazzarola cazzarola Protti bravo Protti bravo Protti dai conquista di quel posto da titolare Protti mio passoni 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 ancora Lucarelli Lucarelli il nostro Lucarelli Lucarelli per Protti Protti a parte che Lucarelli è stato steso come praticamente un tappeto bagnato nel balcone in una giornata estiva è stato proprio picchiato e buttato a terra però vabbè noi non ci facciamo non ci limitiamo a queste cose non ci abbassiamo a questi atteggiamenti vendicatori grandissimo no 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 come cazzarola ha fatto vincere sto riballo Amelia via 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 mamma mia che ce la siamo vista brutta che ce la siamo vista brutta però siamo riusciti Doga 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 bravissimo Doga per Protti Protti fa fuori il difensore Protti 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 Protto fallo su Protti Collina Ammonici a questo allora a chi la possiamo passare a Vidigal 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 che ci crede Vidigal 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 che ci crede arriva al fondo cerca il traversone ma è troppo sul portiere ed è sempre sul Protti porca di una paletta Ambriaca non dovete passare la Protti signori Protti alto un metro da tic tac ci vuole Lucarelli ci abbiamo Lucarelli attenzione ancora Protti 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 ancora buttato a terra ma Passoni si crea lo spazio Passoni entra in area Passoni buttato giù pesantemente dico ma gli puoi ammonire parte per Antonio ammonito Antonio Antonio da Silva ammonito buttato giù prima attenzione allora io non mi ricordo come cazzo si batta le punizioni su sto gioco però ci proviamo ci proviamo parte la punizione mamma mia che gran cagata di punizione attenzione però la palla torna a Passoni che dà nulla porca di una paletta Ambriaca signori Passoni mio cazzarola con tanto di porta che c'hai attenzione ancora parte il calcio d'angolo pallone al centro vediamo se Lucarelli si inventa qualcosa non si è inventato assolutamente attenzione Vidigal la mette giù Vidigal attenzione no ma che cazzarola fa vai no ma porca lì dove andarci a pesci come cazzo ci si è andato Lucarelli ma porca ma porca ma porca dico io ma porca e lo ripeto ancora una volta ma porca minuti di recupero Vargas Vargas con calma non da Puzzolone che non sei altro brutto Puzzone brallo l'intervento di Vargas che riesce anche a evitare la rimessa laterale grandissimo Vargas Passoni che si trova sempre troppo indietro rispetto al gioco finisce il fine primo tempo signori e io per ora non mi sento di sostituire nessuno hanno giocato tutti bene signori aspettiamo magari metà del secondo tempo per dare spazio a quei giovani che voglio fare un attimino crescere ancora protti 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 pronnaggia ma buttando gli occhi al cielo signori oh oh non era fallo mai nella vita ma si è semplicemente appoggiato voleva vedere bene cosa che nome c'era sulla maglietta il velo attenzione 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 amelia mamma mia santa amelia da papernick ok questa non so in quanto l'avranno capita però vabbè passaggio lungo attenzione protti la mette a terra la passa di testa per vidigal vidigal per passoni che fa un velo inutile 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 passoni mio addirittura gli dà anche il vantaggio addirittura tutto questo gran fall l'avevamo fatto non mi sembrava attenzione ancora il mines in mines in mines in mines si allagra sulla fascia cerca lo spazio per il cross non si sa cosa stesse andando a fare amelia amelia stava andando a cercare forse l'acqua che aveva la borraccia che aveva dentro la porta perché l'ho persa a un certo punto va bene va bene vidigal 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 per lucarelli lucarelli perché vede protti ma protti mio ma che stop era bello cioè protti ha fatto uno stop che mamma mia mamma mia ma da mandare nuovamente alla scuola calcio praticamente sbagliano anche loro ma noi non riusciamo ad approfittarne nemmeno da lontano bello il fallo bello 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 se devi fare un fallo devi fare violento facciamo dei cambi signori protti 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 no protti no protti mio non ci siamo proprio protti mio vai con rossetti vai con rossetti io ho fiducia in rossetti signori ho fiducia in rossetti sento che rossetti ce la sblocca protti mio hai noti che fai l'uscita dal passo di cammello perché non non ci siamo non ci siamo protti mio amelia grande amelia tu tu spara pacchiala vai 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 che a qualcuno arriva questa palla grandissimo mannaggia 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 abbiamo un attacco un po' sterile un po' sterile decisamente un po' sterile vediamo se rossetti ora con la sua giovane età riesce a darci più consistenza là davanti intanto dovremmo anche riuscire a difendere non vorrei dirlo però dovremmo anche cercare di difendere ci stanno più appallonate signori ci stanno proprio pigliando appallonate quando si dice ci stanno prendendo appallonate si ci stanno prendendo appallonate la felle lo volete levare sto pazzaro di pallone rossetti rossetti subito buttato a terra come se non ci fossero domani va bene rossetti Passoni, 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 Passoni Si crea lo spazio, Passoni Cerca Lucarelli Che cerca Che cerca Nessuno Che cerca Passoni Lucarelli, Passoni Ancora Lucarelli Ancora Lucarelli Ancora Passoni Che si crea lo spazio Passoni, Passoni Entra in aria Passoni Ma come cazzo Rola Latidi Passoni mio Mamma mia Che squadra di scappati di casa Nessuna offesa per i giocatori reali del Livorno Attenzione Ma io c'ho dei giocatori che sono proprio scappati di casa Mainz di Livorno 0-0 signori Pareggiamo la seconda partita di campionato Questo chi è? Rossetti che dà la mano E' contento Hai sortito in campionato e è contento Vuole dare la mano a tutti Ma nessuno sa chi sia Rossetti Quindi va bene Va bene Dettagli Non facciamoci troppe domande 1-1-1 Un po' sterile sinceramente 1-1-1 Un po' sterile Che non ci fa Molto piacere Però va bene Meglio Meglio di Di una sconfitta Abbiamo avuto la nostra occasione Non siamo riusciti a sfruttarle Protti un po' così Protti un po' così 400 punti E andiamo a 11.220 Ok Amelia sale ancora un pochettino Ok Malara Malera E' salito Ceramitaro Sale un pochetto Vediamo se Rossetti Rossetti sale Rossetti sale Buona 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 Dobbiamo dare fiducia a Rossetti Signori Dobbiamo dare fiducia a Rossetti Che secondo me Possono diventare giocatori interessanti La prossima seconda divisione Giornata 3 Salva E vediamo un attimino Come la va adesso Vediamo un attimino Vediamo un attimino Annuncio classifica UEFA Ok Noi in tutto questo Non da cazzo Stiamo Giusto così Per capire Siamo illuminati Oh Siamo a 67esimi Siamo saliti Abbiamo 26 punticini Ok Siamo praticamente sopra Quelle con cui giochiamo Non nel nostro campionato Va bene Siamo a 67esimi Va bene Va bene Piano piano Riusciremo a progredire anche lì Progredire anche lì Ok signori Detto questo Io vi ringrazio Vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per il like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Siamo secondo in classifica 4 punti Il Sevilla è primo Va bene Va bene Non va male Il Mainz aveva perso La prima Giustamente Il primo punto L'ha fatto con noi Pareggiando Va bene Signori Detto questo Io vi ringrazio Per il nostro video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti E per il supporto Noi ci vediamo sempre qui Sul canale Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao